Ciao da Party in Metro. Questa settimana la dedichiamo a un piccolo grande genio dell'arte di nome Keith Haring. Lo conoscete sicuramente come quello degli omini e per i grandi lavori di street art realizzati un po' ovunque nel mondo. In Italia ne abbiamo uno meraviglioso a Pisa. Oggi noi vi diremo di più e lo faremo con sei parole chiave. La prima parola è cultura. Keith era un uomo molto colto. Frequentatore seriale dei musei, grande viaggiatore, aveva studiato semiologia con Umberto Eco e Roland Barthes e nei suoi diari, lettura che vi consiglio vivamente di intraprendere, si dilunga spesso sul problema del rapporto tra linguaggio e immagine. Haring si domanderà per tutta la vita come fare a realizzare arte che parli una lingua comprensibile a tutti. La risposta a questa domanda è la seconda parola. Semplice. Le opere di Keith sono facilissime da capire. Ma non da realizzare, eh? Vi sfido a copiare uno dei suoi omini traballanti. Il tratto è grosso e deciso e non teme esitazioni. Semplice, inteso come stilizzato, è perché trasmette messaggi concisi e immediati, di amore, unione e fratellanza. Perché no? Fa anche cronaca contemporanea. Guardate per esempio questo uomo con il buco sulla pancia. L'immagine nacque dal ricordo dell'uomo vitruviano e dall'aver appreso la morte di John Lennon. Semplice. Come è anche semplice, nel senso di povero, il materiale su cui ha realizzato il dipinto. Un telone da camion in vinile. A inizio carriera, squattrinato, era la sola tela di grandi dimensioni che poteva acquistare. Quando potrà permettersela, affermerà che la tela inibisce la sua creatività. E quindi, migliore di qualsiasi telone, tela o tavola, resterà per sempre, per lui, l'economico, seppur illegale, muro della metropolitana. E il che ci conduce alla terza parola che è tutti. Di chi è l'arte per Hering? Di tutti. L'artista produce, ma in fondo il senso dell'arte lo restituisce solo il pubblico, che deve sentirsi a suo agio. Toccare la vita delle persone in modo positivo è per me la cosa più vicina all'idea di religione, annoterà nei suoi diari. Nel 1981 Hering si munisce di gessetti e scende nella metropolitana. Tra una fissione e l'altra di pubblicità, i muri delle subways venivano lasciati temporaneamente dipinti di solo nero. Hering trova che questi spazi siano perfetti per regalare ai pendolari parte del suo lavoro. La street art ha sempre avuto la perenne vocazione al dono. Ma Hering farà anche di più. Ecco che cosa ci dice. In metropolitana ogni volta c'era qualcuno che mi chiedeva perché lo facevo, o se venivo pagato per farlo, oppure domandava se si trattasse di una pubblicità. Poi ebbi una folgorazione. Perché non regalare loro una spilletta? Non avrei detto nulla, gli avrei solo dato la spilletta. Ne commissionai ad una ditta mille con il bambino bianco sul fondo nero e poi altre con il cane che abbaglia sul fondo rosso. Ogni volta che scendevo nella metropolitana me ne portavo dietro a manciate e le distribuivo. La gente iniziò a indossarle e avere una mia spilletta cominciò ad essere considerata una cosa figa. Poi le persone che la indossavano iniziavano anche a parlarsi tra di loro e capì all'improvviso quale potesse essere il potere di una spilletta. L'arte di Ehring non è passata dalla parete al merchandising per volere di qualche museo o di qualche brand. È stato lui stesso il primo a comprendere che l'arte dovesse viaggiare ovunque, fosse un muro, una spilla, un piatto, un ombrello. Lui stesso aprirà due pop shop, uno a New York e l'altro a Tokyo. E a proposito delle spille sopracitate, una delle parole più belle da associare a Keith è bambini. Fu proprio lui a scegliere come sua firma il Radian Baby. Quel che mi è sempre piaciuto dei bambini è la loro immaginazione. Una combinazione di onestà e libertà che permette loro di esprimere qualsiasi cosa gli passi per la mente. E poi mi è sempre piaciuto il loro senso dell'umorismo. I bambini sono anche dotati di un incredibile istinto nei confronti di ciò che li circonda e sono in grado di sentire l'energia o il karma che provengono da un'altra persona. Quando nasce la sua figlioccia Madison, al culmine di gioia e dell'orgoglio, le decora cameretta, culla e seggiolone. Il pensiero dei bambini sarà costante, anche come preoccupazione civile. Se nelle opere da vendere, infatti, affronterà spesso temi erotici, omoerotici, scabrosi o dissacranti, per strada non lo farà mai, proprio a tutela dei bambini. Commuoventi sono le immagini del suo lavoro per l'ospedale infantile Necker a Parigi, dove, assieme a uno solo di mini degenti, disegna i suoi omini con l'incantevole effetto di sembrare lui stesso una specie di eterno Peter Pan. Ed è ancora più struggente il pensiero che lui stesso, grande, lo diventerà veramente per poco. E questo ci conduce all'ultima parola della nostra classifica, dolore. Walking in the Rain, del 1986, è un dipinto che raffigura un'arpia che, secondo la mitologia, è l'essere che strappa le giovani vite per condurle agli inferi. La dipinge subito dopo aver ricevuto l'esito del test per l'HIV. Scriverà Il 18 febbraio del 1989 scriveva «Trovo molto difficile guardarmi allo specchio e ricordarmi di avere i giorni contati». Hering morirà esattamente un anno dopo questa annotazione. Il 16 febbraio 1990, all'età di 31 anni, ne avrebbe compiuti 32 a maggio. Muore di quella piaga che aveva falcidiato tanti suoi amanti e amici, di quell'epidemia che ha segnato drammaticamente un'epoca. Hering, col dolore, ha dovuto combattere e l'ha fatto con le armi più potenti di tutti. L'amore, la generosità, la gioia e l'immaginazione. Ed è proprio questa l'ultima parola che gli assegniamo, è l'ultima citazione. L'immaginazione non può essere programmata dal computer. L'immaginazione è la nostra più grande speranza di sopravvivenza. A presto da Parti in Metro. A presto da Parti in Metro.